e andiamo dalla testa, collo e poi seguiamo la colonna vertebrale e poi su e poi di nuovo testa, collo e colonna vertebrale ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi finalmente facciamo un altro video di grattini e coccole varie la modella che vedete è Carlotta, la conoscete già? oggi non ci delizzerà con la sua voce ma farà solo da modella da persona invidiata, da tutti quelli che guardano il video oggi ho un po' di cosine nuove, ad esempio questo strumento in legno per fare un po' di tracing però voglio iniziare un po' semplicemente con i capelli quindi ho un attimo ho alzato l'inquadratura io adoro, adoro, adoro il suono delle dita tra i capelli molto, molto più del brushing quella spazzola perché non so se c'è qualcosa di ancora più rilassante soprattutto qui non so se c'è qualcosa di più non so se c'è qualcosa di più non so se c'è qualcosa di più quindi continua a abbassare un po' le dita ai suoi capelli fra i suoi capelli non so se c'è qualcosa di più bene dopo esserci riscaldati con un po' di gongole ai capelli mettiamoli semplicemente da parte insomma così ecco qua in modo molto semplice bene andiamo a scrivere scrivere qualcosa andiamo a fare un po' di disegnini sulla schiena cominciamo con dei che rigori su tutta 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 la schiena un po' con questo e un po' con le occhie e un po' con le occhie quindi facciamo un po' una S e continuiamo a fare questo momento qua e andiamo dalla testa collo e poi seguiamo la colonna vertebrale e poi su e poi di nuovo testa collo e colonna vertebrale ancora testa collo e fin ancora una volta trovo che questo movimento sia un sacco rilassante un sacco rilassante e colonna allora adesso facciamo un po' di grattini leggeri e poi andiamo un attimo a sciogliere le spalle e questo e questo io molte volte sono ingreccato proprio in questa zona alcuni sono più ingreccati qui ingreccati termine proprio tecnico alcuni hanno più tensioni qui altri un po' più gioia di solito proprio qui quando porto la borsa a tracolla con un po' di libio un po' pesante o quando mi sento male la scrivania mi sa come è sempre qui oltre che la zona lombare per quanto mi riguarda però diciamo che ognuno ha i suoi punti della schiena più sensibili però tutti ne abbiamo ovunque più sensibili più sensibili le due le due C'è bellissimo questo tocco, anche quando lei mi ha fatto il video di skincare, di struccato sul mio viso, quando faceva questo tapping sul mio viso così era proprio paradisiaco. Non so cosa ha più questo movimento di particolare, ma anche se ve lo fate la sera, prima di andare a dormire, quando venite la vostra skincare, giusto per, proprio mentre state mettendo la crema, fate questo movimento qui. Non solo riattivo un po' la circolazione, ma è anche estremamente piacevole. E' estremamente piacevole. Adesso scriviamo un po' di cose. Anzi, facciamo una bella buonanotte senza passare le luci troppo, perché dopo non si vedrà niente, però facciamo una buonanotte lunga. E' quanto antescritte della buonanotte, d'accordo, così facciamo un po' di tresi che facciamo sulla schiena. Vi chiedono quando scrivono qualcosa sulla schiena. Ok? Quindi, io penso proprio, penso, 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 proprio, si aggiunta l'ora, l'ora. Abbassare le luci di poco pro, e augurarvi, 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 augurarti. Una buona, 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 buona. Buona, buona, notte. buona notte e ancora sogni 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 tutto proprio e ancora tutto 9 G A K D good 9 sweet rips V E E D D D H E A M S sweet tree DI Good night And nice E Nice Also ussian Sì 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 Buon week, good night, buonanotte pasticci, un bacione Cut, 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 cut Cut, let's be, cut